In questo video faremo un breve ripasso delle moltiplicazioni a due cifre al moltiplicatore. Ad esempio prendiamo 25, 2 decine e 5 unità, scegliamo il simbolo della moltiplicazione che è il per 16, facciamo una semplice semplice e mettiamo la fine dell'operazione con l'uguale. Allora in questo video ci aiuteremo con il nostro personaggino preferito creato in classe che è questo simpatico robottino che abbiamo chiamato tutti insieme durante la prima lezione Robby Rob. Sappiamo bene che la prima cosa da fare è mettere bene in colonna, quindi per mettere bene in colonna la prima cosa è pensare quali sono le decine e le unità del numero 25. 2 sappiamo bene che in questo caso la cifra 2 è una decina, il 5 è l'unità e poi mettiamo di nuovo l'operatore, il per. Faremo la stessa cosa con il numero 16, quindi nel numero 16 1 è una decina e 6 è un'unità e anche qui, chiudiamo l'operazione con uguale, andiamo a mettere sotto la linea di chiusura dell'operazione non è venuta bene con il nero, eccola qui, eccola qui, e continuiamo. La prima cosa che dobbiamo fare è iniziare a moltiplicare, ma da dove iniziamo? Noi sappiamo bene che si inizia sempre dalle unità, ma in questo ci viene in aiuto di nuovo Robby Rob che ci dice via, dicendoci via ci fa capire che dobbiamo partire da questo 6 dell'unità del numero 16 e andremo a fare 6 per 5 sarà il numero 30 il numero 30 è composto così da 3 vecine e 0 unità qui siamo sotto le unità, quindi cosa metteremo? metteremo solo il numero 0 e questo 3 ci verrà in soccorso, in aiuto Robby Rob delle decine lo metteremo qui ricordandoci che questo numero andrà addizionato con il prossimo quindi andremo a fare 6 per 2 dove questo 2 è una decina 6 per 2 fa 12 quindi scriviamo 3 che erano le decine di riporto di prima più 12 uguale 15 questo 15 lo scriveremo qui facendo attenzione a mettere il 5 sotto le decine e l'1 sotto il centinaio abbiamo finito? certo che no perché ci resta ancora il numero 1 ora noi sappiamo che il numero 1 è una decina quindi che cosa succede quando Robby Rob delle decine ci dice continua perché c'è una decina? ci viene subito in aiuto di nuovo Robby Rob delle unità che ci dice attento le unità sono finite quindi vicino all'unità precedente in questo caso lo 0 metti un più e sotto metti 0 ok? e così possiamo continuare faremo 1 per 5 è semplicissimo fa 5 1 per 2 2 ok abbiamo finito con la moltiplicazione? a questo punto sì non ci resta che eseguire questa addizione così sappiamo il risultato definitivo della nostra moltiplicazione andiamo a eseguire questa addizione 0 più 0 quanto fa? 0 5 più 5 fa 10 10 è composto in questo modo da una decina e 0 unità ora andrò a mettere lo 0 qui sotto ai 2 5 e questo 1 sarà il mio riporto e lo metterò qui in alto 1 più 1 2 2 più 2 4 e abbiamo finito lo rimpicciolisco lo rimpicciolisco un po' altrimenti si rischia di confondersi eccolo qua quindi lo metto qui lo devo sommare non è che 1 diventa 11 questo è un numeretto che devo sommare perché appartiene al 10 1 più 1 2 2 più 2 4 e abbiamo finito con la nostra moltiplicazione a due cifre basta scrivere qui vicino alla moltiplicazione in riga 400 e abbiamo finito a questo punto possiamo farne altre e possiamo esercitarci